Will? Ho gli esiti della visita e ho paura perfino di aprire la busta. Me li leggi tu, per favore? Hai paura che ti abbiano trovato traccia di sangue nell'alcol? Mio signore, ti prometto che se c'è scritto che sto bene, metterò tutta la mia vita al tuo servizio. Qui dice che stai bene. Ci sei cascato di nuovo! Sì, hai fregato l'onnipotente. Ti ha prescritto solo una cura di calcio. Come mai? Beh, quando si arriva a una certa età, una donna della tua. Quando una... I ricchi hanno bisogno di calcio. Va bene? Non mi piace. Beh, comunque, devi prenderlo. Karen! Avanti, fingi che sia uno dei tuoi tic-tac messicani. Cosa sei, uno spacciatore di calcio? Vuoi farmi diventare calcio dipendente? Così, in crisi di astinenza, tu e i tuoi amici potete farmi ballare come una scimmietta.